La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino, guardiamo la prima pagina. Il titolo di apertura europea è il Sud, dimenticato, comizi di chiusura, tutti i leader da Roma in su, il flop del reddito porta al nord anche i 5 Stelle, Salvini Di Maio l'ultimo scontro sull'abuso d'ufficio, blocchitalia va rivisto, stupidaggine. E poi gli exit poll, Olanda, i populisti non sfondano, sorpresa, i laburisti sono in testa. In Olanda è il primo paese europeo al voto e i laburisti sono i primi a sorpresa. I conservatori tengono, non sfondano invece i sovranisti. Negli exit poll si profila un riequilibrio tra i due partiti della destra euroscettica che totalizzano soltanto 4 seggi su 26. Ieri al voto anche la Gran Bretagna, ma nessun dato fino a domenica. La Premier, May, resiste mentre il suo partito rischia il crollo alle urne. Rimaniamo sempre sulla politica con l'intervista a Zingaretti, il Movimento 5 Stelle, dice il responsabile dello Spacca Italia. Poi il focus, aziende in crisi, quelle 138 vertenze ancora da risolvere. Spostiamoci sul centro pagina. Da Napoli a New York, tutti i giorni la campania più vicina al mondo e il vicepresidente di United a Capodichino per il primo viaggio. Sempre sul centro pagina la cronaca. Napoli, permessi falsi agli immigrati residenti al cimitero. Sgominata la banda, arrestati due poliziotti, soldi inviati anche a un terrorista di Parigi. Smantellata a Napoli un'organizzazione gestita da due poliziotti e sette immigrati che si occupava di far ottenere ad immigrati il permesso di soggiorno. Come residenza fittizia si adoperava il trucco della sistemazione presso il cimitero di Poggio Reale. Le indagini sono partite da verifiche sui fondi trasferiti a uno degli attentatori jihadisti del Bataclan. Poi il caso del Cardarelli, la guerra delle lenzuola per un pugno di voti. A Napoli scoppia la guerra delle lenzuola dopo il caso della biancheria non fornita ai principali ospedali. Il Ministero dell'Interno invia lenzuola a useggetta, piccata la replica del governatore De Luca. Di taglio basso troviamo un caso, Ercolano, la mamma respinta dalla clinica e Marta nasce in casa con il papà quando l'errore diventa una favola. Lasciamo la prima pagina, andiamo a vedere sempre sul mattino che cosa c'è in primo piano. Le elezioni europee verso voto per l'Europa. I leader snobbano il mezzogiorno, comizi di chiusura da Roma in su per tutte le principali forze politiche. flop reddito e il meridione si sente tradito e i 5 stelle cercano di recuperare altrove. Sempre su questa pagina di taglio basso troviamo la polemica. Sud inefficiente ma la classifica nasconde il trucco dei tagli. La polemica corre da due giorni in rete dopo la pubblicazione del rapporto l'efficienza dei comuni nelle regioni a statuto ordinario firmato da Alessandro Banfi per l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani. La struttura guidata da Carlo Cottarelli, economista della Cattolica e noto valutatore degli sprechi pubblici. Lo studio fa due verifiche su 52 città, quanto spende un comune rispetto al fabbisogno assegnato e che quantità di servizi offre rispetto alla media delle città di analoga dimensione. Il principio è corretto ma la base dei dati è viziata da strutture gravissime evidenziate dal ministro Giovanni Tria in Parlamento quando ha sottolineato che nell'attuazione del federalismo fiscale per i comuni si è fatta prevalere in questi anni l'esigenza di limitare gli effetti redistributivi del nuovo sistema attraverso complesse soluzioni tecniche quali il livello dei servizi per le funzioni di costo, il target per equativo al 50% e le clausole di salvaguardia per limitare gli eccessi. Che cos'è accaduto? Che con una raffica di formule che non è eccessivo definire truccate si sono alzati i fabbisogni riconosciuti nei territori ricchi e si sono tagliati i diritti nel mezzogiorno. I metodi utilizzati sono due. Quando il servizio al sud non c'è si è certificato che non serve. Il caso più noto è il fabbisogno di zero di asili nido. La seconda tecnica è di ridurre il fabbisogno riconosciuto anche quando la spesa c'è in base a una formula diabolica chiamata effetti territoriali la quale in sostanza dice che se un comune si trova in una regione che offre poco anche il comune deve offrire meno servizi. Una regola scattata nel 2017 è ancora in vigore. La cui definizione corretta si legge nell'articolo è razzismo. Ti do meno di quanto ti è necessario perché sei campano, calabrese, pugliese o lucano. E lasciamo questa pagina. Andiamo avanti. Passiamo all'economia. Napoli, la rotta di New York. United apre il mercato americano. Volo giornaliero da Capodichino a Newark e connessioni con il network in Nord America. Un altro passo nell'integrazione dello scalo nel sistema dei principali hub di tutto il mondo. È arrivato accolto dai water cannon il battesimo dell'aviazione, i getti d'acqua dei vigili del fuoco, il Boeing 767 che ha inaugurato il volo diretto della United New York. Napoli ogni giorno fino al 26 ottobre, partenza da Napoli alle 9.55 e arriva all'aeroporto di Newark, hub della United, alle 14.05, ora locale. Ritorno da Newark alle 17.15 e arriva a Napoli una manciata di minuti prima alle 9 della mattina successiva. Passiamo ora alla prima pagina del mattino di Salerno che apre con la cronaca e l'operazione della guardia di finanza, cibo e abiti falsi da record, maxi sequestri della finanza al porto in una sartoria gestita da senegalesi, sigilli a 22 tonnellate di alimenti per cani e capi d'abbigliamento con griff taroccate. Il porto di Salerno si conferma centrale nelle attività illegali e soprattutto centro di smistamento dei marchi contraffatti. Lo dimostrano le diverse operazioni di polizia giudiziaria ma anche i continui sequestri da parte dei finanzieri del gruppo di Salerno di prodotti con falso marchio made in Italy. L'ultimo caso riguarda un ingente quantitativo, 22 tonnellate di alimenti per cani spacciati per prodotti italiani. In una sartoria fuori legge nella valle dell'Irno invece sono stati sequestrati capi contraffatti e ben 1300 targhette da cucire sugli abiti per farli somigliare in tutto e per tutto ai modelli originali, comprese le indicazioni per il lavaggio e altri dettagli. Sempre di taglio alto la scuola, niente concorso per le maestre delle paritarie. Poi di lato invece troviamo lo sport, play out salernitana, spettro per la città, il tar detta la linea, spareggi da disputare, fiato sospeso per il rinvio del caso Palermo. Ancora calcio, la tragedia, ragazzi morti sul treno, un dolore lungo, vent'anni. E poi sempre lo sport e sempre il calcio, cavese, il traguardo dei cent'anni, festa con 200 vecchie glorie. Spostiamoci su centro pagina. Il delitto delle fornelle, condannate Daniela, spinse Luca ad uccidere. La politica, il caso, l'aspirante sindaco e la pistola nascosta, Mirarchi in carcere, in corsa ad Albanella e coinvolto in un filone dell'inchiesta sul voto di scambio ad Agropoli. Poi lo scandalo a Camerota, mazzetta al bar, processo sprint per il comunale. Spostiamoci sulla prima pagina della città. L'apertura a voti e camorra, attacco al cerchio magico. Perquisizione nell'azienda di Mirarchi, candidato sindaco di Albanella, scoperta una pistola con matricola a Brasa e viene arrestato a Agropoli nel mirino dell'antimafia, l'appalto per l'illuminazione pubblica della Dervit di Roccadaspide. Sotto la testata, il caso, industriale vittima del racket, vessato da usurai e burocrati. Centro pagina, l'inchiesta di Camerota, tangente al bar, processo lampo. Poi scafati, a Liberti, il nuovo PM, clan, parla di clan, ai comizi. Elettorali, di lato lo sport, calcio, in tribunale, l'assedio e granata, c'è l'incubo play-out, poi l'anniversario, vent'anni di dolore per il rogo del treno. E la storia di Blufon, c'è il centenario cavese, l'aquilotto fa festa. Sempre di lato, andiamo a Salerno, omicidio, Fornelle, l'accusa, condannate, Daniela, ha 21 anni. Spostiamoci a Nocera Inferiore, un compagno geloso se ne va al lavoro e lega la donna al letto. Picentini, comunità montana con un solo dipendente che è anche morto. Di taglio basso, la cronaca, cibo per cani con falso made in Italy, 22 tonnellate di crocchette contraffatte sequestrate al porto di Salerno dalla Guardia di Finanza. Lasciamo la prima pagina della città. Spostiamoci su cronache. L'apertura, Alfieri e Coppola, nuovi guai, ombre sulla pubblica illuminazione. I sospetti della DIA sull'appalto vinto dalla società Dervit di Rocca d'Aspida, dal Banella arrestato il candidato a sindaco. Pasquale Mirarchi aveva una pistola. Centro pagina, i play-out si rifanno, la Serie B sarà a 22 squadre, il Tar sospende la delibera, se ne parla l'11 giugno. E poi il 24 maggio del 1999, la dolorosa pagina della storia, Granata, vent'anni fa, quel maledetto treno, Ciro, Simone, Enzo e Peppe. Sempre sul centro pagina, Salerno, l'omicidio delle fornelle, istigò il fidanzato a uccidere il padre, il PM chiede 21 anni. Di taglio basso, Sarno, Robustelli all'attacco, il candidato a sindaco del centro-destra punta sul lavoro, si infiamma la campagna elettorale nell'agro. Andiamo ora a Battipaglia, Forza Italia sta con il sindaco, mentre il vice romano lascia il posto a Cappelli. Questa era la prima pagina di cronache con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa, diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Bentornati in studio, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, riprendiamo le pagine del mattino e partiamo dalla cronaca in provincia di Salerno. Vediamo che cosa è successo. Voto di scambio, l'inchiesta, pistola in casa, arrestato il candidato sindaco Pasquale Mirarchi in corsa al comune di Albanella. Finito nelle indagini su Alfieri, aveva un'arma clandestina nel mirino dell'antimafia. Anche l'azienda Dervit, l'ipotesi turbativa d'asta per un appalto ad Agropoli. Andiamo a Camerota, mazzetta al bar, processo sprint per occhiati. L'ex sindaco Troccole, l'ex vice scelgono di non rispondere ai giudici, accuse ridimensionate per la coraggio. Poi il ricorso, riesame per il delitto autori restano tutti in carcere. Il provvedimento, pizzo al bus turistico, parcheggiatore nei guai. Voleva il pizzo per il parcheggio di un bus turistico, ma l'autista gli ha risposto a muso duro e lui lo ha picchiato. I fatti sono accaduti a Pietri qualche mese fa e la malcapitata vittima ha deciso di presentare denuncia presso la stazione locale dei Carabinieri. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo a Cava dei Tirreni. Furti, frazioni pattugliate, la polizia insegue i ladri e recupera l'auto rubata. Dopo la sfilza di saccheggia, rotole e maddalene, le proteste dei residenti istituiti, posti di blocco. Ancora Cava dei Tirreni, shopping, sosta e viabilità, rivoluzione dei negozianti. Negozianti, confesercenti, chiede l'anticipo dello scarico e carico merci e sconti parking a tariffa ridotta. Sempre Cava dei Tirreni, anziana travolta in retromarcia, salma sequestrata per l'autopsia. Baronissi, baliante, scontro sull'ineleggibilità, pareri legali discordanti. C'è tensione, nessun dubbio per gli avversari, il caso esiste, gli amministrativisti del sindaco uscente, tutto normale. Fisciano, due saccheggi in una notte, uno sventato dai vicini di casa. Poi furore, ziplining, costiera a una donna, il primo volo d'angelo sul fiordo. Lanciarsi da schianto costerà di giorno 40 euro a persone, la notte di più il sindaco. Faremo promozioni turistiche. Andiamo avanti. Andiamo a Nocera Inferiore. Uscita A3, vietata ai tir. Autostrade si adegua, già installati i segnali. Dopo l'out-out e la denuncia, Torquato ottiene il risultato. Gli autotrasportatori costretti ad uscire al casello di Angri. Sempre Nocera Inferiore, picchiata, sequestrata e legata al letto, manda l'orco a processo. Pagani promettono posti di lavoro, lite tra De Prisco e i Gambiniani. Il sindaco uscente invita ad abbassare i toni da ultimora le forze dell'ordine impegnate a garantire la serenità del voto. Scafati, candidati al rush finale e sfida sulla normalità. E poi Sarno, cani e gatti avvelenati, scatta la caccia al killer. Spostiamoci ora a Battipaglia. Molestano la figlia, affronta la baby gang e finisce in ospedale. Il RAI dal rione Taverna, dove un padre, per difendere la minore, viene picchiato dal branco, ora nel mirino dei carabinieri. Aggredito dunque da una baby gang, vittima della brutale aggressione, un genitore che nella serata di mercoledì scorso è stato picchiato da dieci ragazzi. È accaduto in strada poco prima delle 19. Nel rione Taverna, dove abita la vittima, che era in compagnia della moglie e della figlia minorenne. L'uomo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, dove gli sono stati refertati sette giorni di guarigione. Un vero e proprio raid punitivo, che sarebbe conseguenza di un diverbio con un ragazzo, avvenuto poche ore prima. Il giovane ha molestato e bloccato la figlia minorenne dell'uomo e le ha stretto le mani alla gola. La ragazzina è riuscita a divincolarsi dalla morsa e ha subito telefonato al padre, raccontandogli l'accaduto. Poi, la vendetta. Andiamo a Eboli. Ebolitana, la fine di un sogno, fallimento e forse bancarotta. Battipaglia, Alba, un docente farà luce sulla gestione della società. Sempre Battipaglia, Treofan, la vertenza torna al Mise e l'ultima speranza per i lavoratori. E poi Ponte Cagnano, Faiano, Conti e opere via libera in consiglio, ma l'opposizione sceglie Laventino. Lasciamo il mattino, spostiamoci su cronache. Con il caso del Cardarelli, regali le lenzuola ai balconi d'Italia. De Luca rimanda al mittente l'aiuto per il Cardarelli. E Salvini è nervoso, sta per essere sfrattato. Botta in risposta tra il governatore e il ministro degli interni, che si era attivato per evitare disfunzioni all'ospedale napoletano. Matteo Salvini dispone l'invio al Cardarelli di Napoli di 2.500 completi letto e 500 lenzuola monouso. Ma il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ordina il blocco del regalo e scontro politico sul caso esploso nel più grande ospedale del Mezzogiorno a causa dello sciopero indetto dagli addetti dell'American Landry, la società che ha l'appalto per la lavanderia dell'Asl Napoli 1, ma che è stata colpita da interdittiva antimafia, la dotazione di lenzuola pulita e si è ridotta all'osso. Così il direttore generale, Anna Iervolino, per evitare di ritrovarsi senza biancheria pulita rispetto all'elevato numero di ricoveri che il Cardarelli sostiene ogni giorno, ha fermato i ricoveri non urgenti alla notizia che ha tenuto banco sui siti dei principali quotidiani. Matteo Salvini ha risposto con l'invio di forniture, ma a sorpresa il governatore ha fermato i pacchi e dono nel centro di assistenza di pronto intervento del Ministero dell'Interno nel Casertano. Andiamo avanti. Agropoli La delibera in località Mattine sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. La decisione dell'Aggiunta Comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola si tratta di un locale con spazio esterno adattabile. Padula Riaprite le indagini sulla morte di nostro figlio Antonio Parisi, l'incidente mortale, troppe cose non quadrano, un tragico destino porta via un giovane talentuoso e bravissimo, non ancora 24enne, dall'affetto di tutti. Si era trasferito dal Vallo di Diano in Toscana per amore, non aveva avuto difficoltà a trovare lavoro, dotato com'era di tante qualità, perché oltre ad essere un bravissimo giovane Antonio Parisi era davvero talentuoso e apprezzato da tutti nelle sue attività, da quelle professionali a quelle artistiche. Un ragazzo con la testa sulle spalle che il 25 settembre del 2017 ha incontrato un tragico destino in un assurdo incidente stradale avvenuto lontano dalla sua padula. Antonio non aveva ancora compiuto 24 anni quando a Larciano, in provincia di Pistoia, a seguito del ribaltamento su un fianco della sua Peugeot, rimase schiacciato mortalmente tra la stessa vettura e il terreno. Poco dopo l'incidente, il suo cuore cessò di battere, rendendo vani i tentativi di rianimazione del personale medico sanitario. da quel tragico 25 settembre sono passati quasi due anni ma i genitori di Antonio non si rassegnano all'esito delle indagini che hanno individuato esclusivamente nella velocità dell'autovettura guidata dal giovane le cause dell'incidente. E queste erano le pagine di cronache con cui termina la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Grazie a tutti i nostri spettatori